ora oggi? dove andiamo? e dove andiamo? l'agli di colbricon, ciao ciao la campana gervino questa è anche fresca fa 30 metri tenere la sinistra quindi 60 metri tenere la destra gatto capio sono solo 60 metri ciao vecchio ti va sbagliato? torna in drivo dai che è solo in apparenza che tira che tira ho fissato via di là vai o no? bisogna andare fino lassù ci siamo ci ha ingannato speriamo che non sia così Erika ci ha ingannato il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 com'è che si chiamava la malga qua? ok siamo ripartiti però belli questi pezzi sotto bosco ancora qua il top? si ciak si gira la famosa ultima salita me l'avete detto un sacco di volte che è l'ultima sarà l'ultima davvero allora ho controllato nella batteria dietro la testa c'è il 5% che lampeggia non so se un segnale quindi la centralina ha detto blocca braccia ultima salita ultimo sforzo primo in assoluto sicuro in assoluto la macchina è la ciao 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 ciao